Un cordiale buongiorno dal vostro amico Edoardo Stoppa, l'amico degli animali. Siamo qui nella periferia di Istanbul per, come dire, illustrarvi questa scena di degrado totale degli animali. Vedete qui dentro nel cancello ci sono in totale stato di abbandono due cani. Lì vedete? Qua in Turchia, così come in Grecia, non è buona norma tenere i cani dentro delle ringhiere, perché devono essere liberi di mangiare le mie gambe, o le gambe di altri ciclisti come me. Adesso andrò a parlare col padrone di questo stabile, che probabilmente sarà un turco di 700 kg, sicuramente accondiscendente per chiedergli come mai tenga i cani in questo stato di abbandono e se li possa lasciare liberi in modo tale da permettere di mangiarmi. Ciao dal vostro Edoardo Stoppa per Striscia la Notizia. Ciao!